Ma bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati in un mio nuovissimo video, cambia ancora postazione. Questo è un post partita velocissimo, spero, di Atalanta-Inter. L'Inter perde 4-1 con l'Atalanta, l'Atalanta che non solo vince ma stramerita, non è una cosa così scontata. L'Atalanta in casa è veramente una squadra difficilissima da battere. Primo tempo finisce 1-0, però l'Atalanta ha avuto tante di quelle occasioni incredibili di Cicci che ha sbagliato il gol del secolo. Ma insomma, un'Atalanta che dominava sotto ogni punto di vista, centrocampo che faceva bene filtro, la difesa che reggeva bene, ripartenze in velocità formidabili. E quindi poi si rientra però il secondo tempo dagli spogliatoi con l'Inter che dopo praticamente due minuti pareggia la partita su un calcio di ricordi che era netto. E allora prima di Beriscia e poi di Mancini che tiene un po' il braccio largo, 1-1 sacrosanto. Al che io dico vabbè la partita è cambiata, l'inerzia è cambiata, adesso sono cavoli. Invece no, perché segna Mancini di testa, un altro gol di Mancini. Palla bellissima di Ilicic e non sarà né la prima né l'ultima, perché poi il 3-1 di Durmitisi, smidisi, come cavolo si chiama, è un altro gran gol da calcio da fermo, sempre su assist di Ilicic. Ma la partita non è finita perché viene espulso Brozovic, per una doppia munizione secondo me che ci stava, normale. Nulla da biasimare all'arbitro in merito a questa partita. Allora, a quel punto rimane in 10. Fallo abbastanza inutile di Brozovic. La partita è finita, quando poi però, dal sacco, il buon Papo Gomez tira fuori una perla favolosa mettendola all'incrocio. Nulla da fare per il buon Andanovic che ne prende 4, nonostante un primo tempo sempre da parte di Andanovic, impressionante. Per il resto, ragazzi, l'Inter non è mai entrato in partita, ha avuto 5-10 minuti buoni, ma niente di particolare e declatante. Forse stanchi perché avevano giocato in settimana una partita molto difficile, però obiettivamente l'Atalanta li ha presi e pallonati. Cioè, il 4-1, anzi, se vogliamo anche esagerare un pochino, è stato anche un risultato che ci stava tutto. Anche abbastanza onesto, niente di rubato o altro. L'Atalanta ha fatto veramente una gran partita. Beh, l'Inter fa un passo indietro, fa un passo indietro perché, a parte le 7 vittorie di fila, ci può stare, sbagliare, perdere. Però, cavolo, perdere 4-1 ed essere dominati sotto il punto di vista del gioco... Male la difesa dell'Inter, il centrocampo male, è uscito Vestino che aveva fatto male, ed è entrato Borcavaliero che è riuscito a fare peggio, oltre a essersi preso una gomitata tipo da Papu Gomez. Ecco, quello è un episodio ad esempio da rivedere, perché effettivamente il Papu Gomez sembra che non voglia dargli la gomitata. Alza il braccio, perché pensava di aspettarsi, cioè, pensava che a raggiungere ci sarebbe stato uno un po' più alto, invece è arrivato Borcavaliero che è alto quanto lui, e quindi gli ha tipo frantumato il naso, però credo che non ci fosse volontarietà nel fallo. E niente, poi altro da dire non c'è, se non che adesso l'Inter deve essere brava a ripartire dalla prossima partita e rimettersi in carreggiata, anche se adesso c'è la sosta nazionale. Quindi, per quanto riguarda invece la partita di stasera, io porterò un po' spartita, nella speranza che io possa essere felice e sorridente come dopo questo risultato qua, se no mi arriverà la mia bella dose di sfotto, che quella non manca mai quando gioco al Milan. Niente ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione se ne avete restato, ci becchiamo in un prossimo prossimissimo video, fatemi sapere la vostra nei commenti in merito all'Inter e alla figuraccia fatta a Bergamo. Hola!